Due argomenti che si sono discussi in relazione al Covid. La green card, noi siamo appassionati di termini inglesi, la certificazione della vaccinazione. Una delle cose più stupide a cui io abbia assistito sono le manifestazioni contro la green card, contro il certificato di vaccinazione. Ho visto immagini di cartelli sollevati dai parlamentari di Fratelli d'Italia, no green pass. Che significa? Facciamo un esempio concreto che riguarda i ristoratori. Il governo sta decidendo, se lo fa, fa una cosa seria. Che per andare al ristorante bisogna avere il certificato di vaccinazione. Secondo voi questa cosa danneggia o favorisce l'attività economica dei ristoratori? Mi pare del tutto evidente che questo favorisce l'apertura dei ristoranti e la maggiore presenza di cittadini nei ristoranti. Se io so che nei ristoranti ci sono persone immunizzate con la doppia dose, porto al ristorante la famiglia, vado a cena, faccio la festa di compleanno. Sto tranquillo, il ristoratore lavora, il ristorante non è costretto a chiudere. Perché se non abbiamo questa decisione, a fine agosto, dopo i gavazzamenti agostani e ferragostani, noi rischiamo di dover richiudere tutto. Ci vuole tanto per capire che una misura come quella del green card è un aiuto a tenere aperte le attività economiche, non un danno. Meno male che negli ultimi giorni, al di là di qualche campagna mediatica che incoraggiava le manifestazioni di piazza, nelle piazze abbiamo trovato poche persone, in qualche caso non c'è andato nessuno, a conferma che la ragione comincia ad essere prevalente sulla stupidità e sulla demagogia politica. Mondo della scuola, secondo argomento che ci deve interessare. Abbiamo un livello altissimo di vaccinazione del personale scolastico, docente e non docente, in campania in modo particolare siamo all'avanguardia. Dobbiamo sapere che se vogliamo, come dobbiamo, aprire tutte le scuole con gli studenti presenti, dobbiamo completare la campagna di vaccinazione al di sotto dei 18 anni. Se vogliamo evitare di tornare alla didattica a distanza, dobbiamo completare la vaccinazione della popolazione studentesca. Mettiamocelo in testa e procediamo con la vaccinazione delle ragazze e dei ragazzi, perché questo ci consentirà di avere un anno scolastico normale. Tutte le altre cose che sentiremo, bisogna ridurre le presenze sui mezzi pubblici, sono tutte stupidaggi, non si farà niente. Dobbiamo completare la vaccinazione e dobbiamo dire a tutti quanti che anche quando si è vaccinati bisogna indossare la mascherina. Perché? Quando noi diciamo che un vaccino come Pfizer ha una copertura del 92%, vuol dire che c'è un 8% di persone anche vaccinate con Pfizer o con Modelo. un 8-10% di persone che può contagiarsi nonostante l'avvenuta vaccinazione.